Sto affidandomi al racconto della Morante, insomma anche alla scrittura degli sceneggiatori di questa serie, ma con l'esperienza di essere stata regista una volta, con un'infinita disponibilità perché mi rendo conto che alla fine poi quando si lavora alla creazione finale e al montaggio bisogna avere tante possibilità e in qualche modo anche la cosa particolare di fare una serie che non avevo ancora sperimentato è la possibilità di lavorare su un lungo periodo, quindi stare dentro un personaggio in maniera particolarmente approfondita e quindi spero di essere stata una buona collaboratrice.